Filippo Lorenzini, primo giorno qui a Serino con la Casertana, come hai visto i tuoi compagni al primo allenamento? Li ho visti molto motivati, mi sembra una squadra anche se giovane abbastanza buona e di sicuro dobbiamo lavorare più degli altri perché siamo tanti giovani con poca esperienza però li ho visti in buone condizioni e sono contento dei miei compagni. Sei giovanissimo, classe 95, hai già un po' di carriera alle spalle, l'esperienza dal nord al sud è il primo anno che giochi al sud, cosa pensi? Può essere differente il girone? Sicuramente è la prima volta che vengo al sud quindi ci sarà un po' di difficoltà anche nel girone non l'ho mai fatto quindi ci possono essere delle difficoltà però secondo me è una bella sfida perché ho deciso io insieme a Luca Pensi di venire qua e mi ha motivato molto la scelta e quindi sono contento di essere qua, sono molto contento. Sei un difensore centrale, si è parlato già col mister, se giocherete con una difesa 3 a 4 se ti ha dato già delle indicazioni. Sì, per ora noi ci stiamo allenando con una difesa 3 e io faccio quello di sinistra, il terzo di sinistra il mister ha parlato un po' con tutti però non ha detto grandi cose pian piano, adesso c'è solo da pensare a correre e a mettere fiato nei polmoni. Per quanto riguarda il tuo movimento in campo, se vuoi spiegare un po' le tue caratteristiche sei destro, sinistro, giochi con tutti e due i piedi, sei bravo, sei molto alto quindi sei bravo credo sull'anticipo di testa. Sì, allora vabbè l'altezza mi dà questo vantaggio di testa però sono sinistro quindi faccio il terzo di sinistra, mi piace giocare con la palla insomma non sono un abituato a calciarla via. Quello che devo migliorare secondo me devo migliorare un po' sulla cattiveria, sull'uomo così però pian piano ci si lavora. Infine un saluto ai tifosi della Casertana che ti vedono oggi per la prima volta. Saluto tutti i tifosi e speriamo anche domenica di vederli numerosi allo stadio giochiamo col tutto cuoio e invito tutti i tifosi allo stadio per domenica. Un abbraccio.